Salve ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video a tema Sanremo. Oggi siamo qui per stilare la classifica finale per quanto mi riguarda a tema Sanremo 2022. Infatti sono state completate ieri le ultime 12 canzoni e quindi in totale abbiamo le 25 canzoni da inserire all'interno di questa classifica. Andrò abbastanza veloce cercando di argomentare quelli che magari sono più significativi. Prima però dell'inizio del video, se volete vedere altri video a tema musicale, perché vi ricordo che io porto ogni giorno dei video alle ore 14 anche a tema gaming, mi raccomando lasciate un bel like, una bella iscrizione, attivazione della campanella, rodo tu 10.100 iscritti, mi raccomando, vi vedo. Inizierei subito con la classifica di Sanremo, vi ricordo anche che c'è un secondo canale, trovate il link anche di quello in descrizione. 25esimo posto, diciamo che è un po' il meme di tutti e Anamena al 25esimo posto. Cambio, decido di inserire ancora uno più scarso secondo me di Anamena che Giovanni Truppi. Secondo me totalmente old come stile e di conseguenza non mi è per niente piaciuto. Anche l'outfit, male male male. 24esimo posto, ho deciso di inserire anche qui non Anamena ma di inserire Human. Human, secondo me è una canzone che funziona anche a livello radiofonico ma è troppo troppo old come stile. Un ragazzo di 20 anni come lui dovrebbe adambire a qualcosa di più e di conseguenza ho deciso di non premiarlo. 23esimo posto, al 23esimo posto dopo aver tolto Giovanni Truppi e dopo aver tolto il buon Human, ho deciso di inserire le vibrazioni. Le vibrazioni che secondo me sono andate anche 22esime per la sala stampa non sono assolutamente in corda con le loro capacità. In passato fecero delle canzoni che mi piacquero molto ma in questo caso non ci siamo proprio. Secondo me canzone non nelle loro, diciamo una canzone delle vibrazioni ma non adatta ad un festival così giovane come quello di quest'anno. Direi che è arrivato il momento di posizionarla, Anna Mena, 22esimo posto, nonostante le numerose critiche ho apprezzato la sua canzone che però rimane sempre fuori stagione. Troppo estiva, una canzone del genere e si può portare magari in estate ma non bisogna portarla così. Detto questo, 21esimo posto, al 21esimo posto ho deciso di posizionare Aixnob e U. Aixnob fu un autore, un rapper che io ho ascoltato in passato, ho smesso di ascoltarlo perché anche lui devo dire che non si è fatto più tanto vedere, di conseguenza mi aspettavo qualcosa di meglio e in realtà un ritorno dopo così tanti anni non è stato per niente efficace e reputo la sua canzone insieme a quella di Ukes, è una giovane promessa, non mi ha fatto scoccare quella scintilla in più. Detto questo, siamo al 20esimo posto, 20esimo posto che va a confermare quello della sala stampa, Iva Zanicchi. Iva Zanicchi onorata e diciamo venerata da tutti, non mi ha fatto impazzire la sua canzone nel senso che è valida, la sua voce sicuramente la contraddistingue ma allo stesso tempo mi aspettavo qualcosa di meglio. Anche qui abbiamo un'ulteriore conferma del voto della sala stampa perché posiziono al numero 19 Giussi Ferreri. Giussi Ferreri che è una delle capostipiti delle IT estive, è sempre presente nelle classifiche delle IT estive, in questo caso però non si parlava di IT estiva ma si parla di classifica a Sanremo, quindi purtroppo per lei è bella l'idea della trombetta ma non è efficace il pezzo per quanto mi riguarda. Allora, iniziamo ad andare un po' verso l'alto perché questo è il diciottesimo posto, diciottesimo posto che se lo aggiudica Achille Lauro con Harlem Gospel Choir, canzone che secondo me non è male, nel senso che è una canzone che l'ascolti e dici non male, però non ti fa dire wow, non ti fa dire magari quel, non ti fa quel solito sentimento che senti quando ascolti le canzoni di Achille Lauro, poteva dare molto di più, ha puntato molto sulla scena e il coro diciamo che fa il suo ma non è che migliora più di tanto la canzone. Diciottesimo posto, diciottesimo posto ha giudicato e confermato quello della sala stampa Matteo Romano, giovane diretto da Sanremo Giovani, non mi è dispiaciuta la sua canzone, anzi molto molto valida, devo dire che per essere soltanto da un anno, essere uscito da TikTok ci siamo, forse uno dei giovani più forti che ci sono quest'anno, tra quelli che sono arrivati, purtroppo però sopra ho messo delle altre canzoni che dopo ve le andrò ad argomentare, è secondo me molto molto più valide. Allora abbiamo adesso Fabrizio Moro, ho posizionato al numero 16 Fabrizio Moro, non peraltro ma è un artista che mi piace, ha fatto delle canzoni come Portami Via, famosissime e molto molto valide, in questo caso la canzone è valida, infatti io gli ho dato comunque un sedicesimo posto, ma reputo più forti magari canzoni un po' più moderne, quindi anche qui la discriminazione che ho fatto io è tra moderno e non moderno, quindi non moderni li ho messi nella seconda parte della classifica. Quindicesimo posto, quindicesimo posto che va al nostro Massimo Ragneri, purtroppo non è un artista che io ascolto, conosco molto bene Perdere l'amore, anzi è una canzone che canto tuttora e quindi sotto questo punto di vista devo dire grandissimo Massimo, però paragonarlo poi a un Gianni Morandi che ha fatto una canzone che secondo me è una grandissima hit, non avrebbe senso, quindi gli ho segnato un umile quindicesimo posto che comunque non va male. Quattordicesimo posto, posizione di H7, H7 artista diretto da Amici, quindi nuovo artista anche lui insieme a San Giovanni diretti da Amici, canzone come che si chiama perfetta così, non mi dispiace, nel senso che l'ho ascoltato un po' di volte, è orecchiabile, molto valido lui con la voce, si vede che ha fatto dei passi in avanti, ma purtroppo quest'anno è un livello molto molto alto, quindi purtroppo lui ho deciso di lasciarlo un po' indietro, però fa niente, andiamo avanti. Andiamo avanti, ci spostiamo nella seconda, nella prima parte in realtà della classifica, col tredicesimo posto, tredicesimo posto che va ad un artista che pensavo facesse molto meglio, ossia Emma, Emma che viene dalla vittoria di Non è l'inferno, la canzone di quest'anno è valida, ok, però una classica canzone di Emma che non mi ha dato quel qualcosa in più come Amami, come le classiche canzoni famose di Emma, che proprio si sentiva le emozioni. In questa canzone qua ho sentito un po' di distacco tra lei e l'ascoltatore, almeno questo è il mio punto di vista, sbagliato o giusto che sia. Saliamo al dodicesimo posto, dodicesimo posto dove vado a piazzare la buonissima e bravissima, secondo me, Noemi, Noemi che ha fatto una canzone molto molto bella, con una bellissima base, secondo me penalizzata nel live a causa dei vari problemi che ci sono stati con la base che era forse un pochino troppo alta, fatto sta che comunque è una canzone molto molto valida, l'ho ascoltata in radio, l'ho ascoltata nella versione studio e devo dire che non è niente niente male, almeno questo è quello che vedo, che almeno penso io. Undicesimo posto per Tananai, Tananai che è stato criticato da molti, io ho apprezzato molto la sua canzone, molto molto innovativa, vi ho detto, io ho appunto delle canzoni innovative, anche il titolo Sesso Occasionale è un titolo che fa subito clamore, ma poi effettivamente stupisce e devo dire che non mi è per niente dispiaciuto, questo qua è stato il giovane a cui ho dato il voto più alto. Decimo posto, decimo posto, occupato da Ercomi. Ercomi, ragazzi, secondo me ha fatto una canzone bellissima dal punto di vista studio, in live l'ha cantata un po' malino, io ho considerato anche la performance in live, non mi è dispiaciuta anche questa, devo dire, il ritornello, questo riff rock e taro con la chitarra spacca, il ritornello mi aspettavo forse qualcosa in più, però nel complesso, artista che veniva con molto hype, valido, decimo posto, secondo me, più che meritato. Non ho posto per invece la nostra dito nella piaga e rettore, chimica, chimica, questo chimica, devo dire che rimane molto in testa, quindi funziona e li ho premiati, partivano sicuramente al di sotto e invece comunque un decimo posto, molto molto buono per loro, almeno questo è il mio punto di vista. Poi ottavo posto per Michele Bravi, Michele Bravi che arriva da un Sanremo valido, ma non incisivo, ricordiamo la sua performance con Diario degli Errori e quella canzone li fece sicuramente fare tanto successo, quindi questa canzone, secondo me, merita la dottava posizione, in quanto è una canzone sicuramente triste, ma allo stesso tempo, devo dire che impatta veramente tanto l'artista e l'ascoltatore dal punto di vista emotivo. Questa almeno è stata la mia impressione principale, ecco. Settivo posto per il buon Gianni Morandi, Gianni Morandi che ha fatto, secondo me, la canzone tra gli anziani Vazzanicchi e Massimo Ragnieri, sicuramente più valida, spacca veramente tanto, si sente l'input e l'impronta di Lorenzo Cherubini, Lorenzo Giovanotti, molto molto bella, complimenti, complimenti, complimenti a Gianni Morandi. Sesto posto per Darjean D'Amico, Darjean D'Amico che è entrato, nessuno se lo ascoltava, più di tanto almeno io, per quanto mi riguarda, non sono mai stato un grande ascoltatore di Darjean D'Amico, però validissima canzone, Cassaderita potente, spacca, GG per Darjean. Quinta posizione, entriamo nella top 5 e ci tengo a mettere in quinta posizione un'artista che io stimo molto, un'artista che si chiama San Giovanni, uscito da Amici, devo dire che è stato forse un po' influenzato, ma la canzone è molto radiofonica, spacca, vedo che sta anche andando molto bene sui social, quindi perché non premiarlo, bravo Sangio, se mai guarderai questo video, anzi, non penso che tu lo guarderai, comunque molto, molto bravo, mi è piaciuta molto la tua canzone, lo devo ammettere. Quarta posizione, ci avviciniamo sempre di più al podio per la rappresentante di lista, rappresentante di lista che l'anno scorso fece amare, e anche l'anno scorso mi piacque molto, quest'anno invece fa ciao ciao e rimane molto in testa, e con le mani, e con le mani, e con le mani, ciao ciao. Anche molto da TikTok, quindi molto bravi, molto furbi i rappresentanti di lista, mi siete piaciuti, molto complimenti, complimentoni. Podio, il podio rimangono Elisa, Mahmood è blanco e rimane Irama, questo è il mio podio di quest'anno, vedremo se ci ho preso o non ci ho preso, come la disposizione sarà un po' anacronistica, perché metterò Elisa in terza posizione con Ora sei tu, artista che si conferma essere una delle voci da donna migliori d'Italia, almeno per quanto mi riguarda, ha veramente un gran, gran bella voce, secondo me poteva far qualcosa in più, ma canzone, terzo posto, io ho messo validissima, e mi è piaciuta veramente un sacco. Ti metterò al primo posto, metto proprio lui insieme a Mahmood, Blanchito, che cosa hanno fatto? Hanno raggiunto dei numeri No Sense, top 5 su Spotify Global con una canzone full italiana, sto sognando, non lo so, svegliatemi se sto sognando, ma che canzone hanno tirato fuori. Tocco di Michelangelo, stupendo, trovate la reaction qua sopra, ho messo, diciamo, la reaction anche a quella song lì, che sta andando anche molto bene la reaction. Perfetti, dico soltanto questo, perfetti. Mahmood, voce perfetta, Blanco, interpretazione e voglia di fare da 18enne, clamorosa. Secondo posto per Irama, Irama che arriva dopo successi su successi, l'anno scorso la genesi del tuo colore, del tuo colore veramente stupenda, e quest'anno arriva con una canzone totalmente innovativa, per quanto li riguarda, ovunque sarai, produzione di Shablo che si sente, violini, archi, insomma, nel complesso, un gran bel lavoro anche da parte di Irama, e devo dire che prende varie fasce d'età, quindi molto bravo Irama. Finisce qua il pagellone, spero che vi siate divertiti, spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti, like, iscrizione e commento, ore 14 domani nuovo video, e vi ricordo, secondo canale qua, sempre in descrizione. Ciao belli, ci vediamo domani, e forse vado in live stasera. Ciao. Ciao. Grazie a tutti